Ciao a tutti e benvenuti a questo video di Magic Brotus, oggi faccio un video che magari può sembrare di polemica ma non lo è, ma anzi è un momento di raccolta, un momento di pensiero, mettiamolo così, per cercare di comprendere e avere una risposta anche alla domanda che appunto è nel titolo. Ha ancora senso giocare in formati Eterna alla Magic, perché? Per come? Adesso appunto lo vedremo bene nel dettaglio, tanto appunto abbiamo modo di spaziare qua, non avendo un vincolo vero e proprio, non è un argomento preciso, ma possiamo analizzarlo per bene. Quindi, prima di cominciare vi invito a lasciare mi piace, commentare, iscrivervi al canale e soprattutto abbonarvi per la maniera più diretta per sostenerci. Inoltre, vi ricordo il nostro sponsor, fantasystore.it, qua vedete il loro sito, molto fornito e sono molto molto veloce a spedire, 24-48 ore, e con noi vi ricordo che c'è il codice sconto Lotus 5, vi dà il 5% di sconto sui prodotti non già scontati. Quindi, se trovate un prodotto che è interessante e vi piace tanto, tanto di tutto, del mondo nerd, ripeto, potete trovarlo anche scontato a prescindere, perché? Perché se non lo è, comunque un 5%, grazie a questo codice, c'è. Allora, dai, cominciamo. Perché questa domanda? Perché tutto? Allora, in tutto cerchiamo di capire cos'è Eternal, cos'è non rotating, eccetera. Allora, io in un unico calderone metto Eternal anche cose che non sono Eternal come modern. Tra l'altro, questa stessa cosa viene specificata nella wiki di Magic, ma anche da altre parti, che Eternal fa riferimento solo a un paio di formati, che sono Vintage, Legacy, Commander e Pauper. Praticamente sono formati non rotating. A sto punto uno può chiedersi, è ma è che cambia tra Modern e Pioneer e Eternal, perché anche Modern e Pioneer sono solo ad accumulo. Perché loro non sono Eternal? Perché è un titolo riservato ai formati che guardano dall'inizio della storia di Magic. Questa è la differenza. Magic non guarda da Alpha. Tutti questi formati che vi ho detto, invece sì. Poi magari hanno delle carte che non sono legali, o quello che è, per carità. Bloccano delle carte iconiche di Alpha, come appunto Legacy, che blocca le Power Nine. Però, comunque, se è una carta stampata in Magic, riguarda Magic, è legale in quel formato. Mentre, mentre Modern e Pioneer hanno dei paletti. Cominciano da un X. Da X in poi si va avanti. È ovvio che, oramai, visto che Magic ha 30 anni, ai fini, diciamo, di dividerli, è semplicemente una questione linguistica e di nostalgia, ricordo. Cioè, non è una... Alla fine della fiera, sì, sia i non-rotating che gli Eternal sono formati ad accumulo continuo. Quindi, continuando ad accumulare, accumulare carte, vanno verso la stessa problematica comune. Cioè, se arriva un punto in cui il Power Level piano piano sale talmente tanto che diventano formati ingestibili. E quindi, come si fa a far sì che non diventi così, si interviene con i ban. Poi, ovvio, ci sono delle carte dentro che cambiano talmente tanto la situazione che fanno sì che Pol Meta dipenda da anche quelle, diciamo, questi pilastri vecchi, più le carte nuove. Per farvi un esempio stupido, Reserved List e Tantes per Zero in Legacy e Vintage. E, appunto, da lì quello c'è, la differenza poi tra i Modern. Allora, tolto dalle scatole questa cosa qua della differenza di nomenclatura, che l'ho detto soltanto per, perché so che sennò qualcuno di più precisino, gnini, gnini, nei commenti faceva gnini, gnini, gnè, beh, scherzo, però sì, è giusto per fare una prestazione. Entrambe le cose, appunto, come ho detto, giungono allo stesso problema. Questo problema un po' si sta sentendo, soprattutto, e questo è il motivo vero del video, è che la wizard sta stampando davvero tantissimo prodotto, quindi se adesso escono X set standard in più rispetto a prima, vuol dire X, anzi N carte in più, così dico meno volte X, N carte in più che diventano automaticamente legali in questi formati. Quindi capite che se esce una carta forte in un set, devo analizzarla per tutti quanti, devo analizzarla per legacy, devo analizzarla per vintage, devo analizzarla per commander, devo analizzarla per power se è comune, devo analizzarla per modern. Questo è abbastanza problematico, perché non consente di stare dietro bene ai formati, questa è una cosa che avete notato anche voi ragazzi, sicuramente seguendoci, esce davvero troppa 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 roba, e quindi non si riesce a starci dietro. E quindi questo già crea una mini risposta alla domanda che vi dicevo prima, però andiamo a vedere anche un po' più in fondo, perché se uscissero solo tante carte non sarebbe un grosso problema, nel senso, se uscissero tante carte di cui gran parte ce ne possiamo fregare, allora è un conto. Il problema è che escono tante carte che in realtà sono interessanti, cioè ogni set oramai propone sempre più power level in alto. Per farvi un esempio ancora più terra terra è stupido. Il prossimo set, Bloom Burrow, presenterà una carta che sarà Homicide, Murder, anzi, mi sembra che è chiamata così in inglese. Tappa 2, distruggi una creatura a bersaglio, è stata rivelata, spoilerata, vedete come vuoi fare, da Maro, nel senso che lui ha fatto, è andato a recuperare in caso nel video degli indizi che ho fatto, parla di una carta che ha come testo di rule solo questo, distruggi una creatura a bersaglio, punto, nient'altro, quindi come un punto murder, eccetera. Questo effetto costa normalmente tre mana, allora lui ci ha detto che avrà un costo di mana diverso, può vuol dire anche di più, però ragazzi, capiamoci, non prendiamoci in giro. Magic sta andando sempre più verso power level in alto e quindi probabilmente intende che uscirà appunto un murder con il costo più basso. Questo, di nuovo, poi magari questo giro lo fanno Sorcery, poi la prossima volta lo fanno Instant e quindi capite che c'è, è molto più, cioè il power level è molto più schizzo in alto di volta in volta. Una cosa del genere, prima Magic, pre-covid, quando ancora le stampe erano normali, chiamiamole così, non questo nuovo normale che abbiamo adesso, questo scatto di power level avveniva molto più lentamente. Cioè ragazzi, ma vi ricordate, prima c'è, adesso ci propongono, a parte di continuo la stessa carta, Deadly Disput in versioni diverse, almeno una volta all'anno. Prima, poi prima di ottenere comunque un effetto come quello, cacchio se ce n'è voluto, prima era Sacrifica Sorcery, poi è diventato, ok, Sacrifica Instant, però solo creature, ok, sono un mana per carità. Poi è diventato adesso con due mana, creature, artefatti, pesca due, poi è diventato creature, artefatti, tapando due a Instant, con dei bonus, che Deadly Disput è l'emblema perfetto di questa cosa, nel senso che ti dà il tesoro, che è uno dei migliori artefatti, dei migliori token, regalini che ti può dare. Adesso ci sono le varie varianti, la mappina, i punti vita, e quell'altro, quella con flashback che non ti dà nient'altro, però la flashback la puoi fare. Quindi questo, capite, che è una cosa che non era così una volta, non era così, non era affatto così. Però ripeto, se gran parte di queste carte ce ne potessimo fregare, allora sì, noi potremmo essere più contenti a quel punto di vista, però, però, ovviamente, se fossero gran parte carte che prendiamo e lanciamo giù dalla finestra, la wizard, tra virgolette, farebbe un brutto lavoro per se stessa, perché non avremmo interesse a comprare quel set, vuol dire, perché se sono carte deboli, è chi me lo fa fa di aprire e comprarle. Aaaaah, aah, 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 regalcetti, eh, scusa. Eeeh, quindi, in realtà sono carte rilevanti. Questo possiamo vedere che è ancora più exacerbato vedendo le carte che sono le più giocate. allora qua adesso standard non mi interessa ecco qua, oh top modern che ripeto che non è eternal però ragazzi passate mi ripeto con la differenza che ho detto prima, tanto guardiamo anche legacy però principalmente eternal non rotating poi non so se nel titolo sono riuscito a mettere entrambi però di nuovo ci siamo capiti notate che di nuovo sono la gran parte delle carte, sono la gran parte delle carte cioè alla fine della fiera sono tutte carte che sono uscite negli ultimi due, tre anni che hanno surclassato oltre dieci anni di modern, modern è da dieci anni che c'è, parte dal 2000 e più o meno perché al 2011 quindi l'altra un po' di più con con contenuti che vanno dal 2006, 2008 2006 giù di lì perché partiva l'ottava edizione lui c'è guardate, top cards, bolt una carta vecchia, certezza di sempre The One Ring che The One Ring soprattutto fa discutere tantissimo tra l'altro questo apre un'altra parentesi la questione degli Universi Beyond visto che è un video un po' lungo posso anche spaziare su questo discorso gli Universi Beyond sono tra l'altro destinati a rimanere la Wizard ha già detto che li vuole, gli piacciono ci staranno vedete che questi comunque sono un set che sono molto difficili da gestire perché dal punto di vista di stampe in base a con chi cooperano può essere facile o meno poi tra l'altro se non c'è più possibilità di ristampare quella carta perché finiscono i rapporti commerciali tra l'azienda Wizard e l'ente con cui cooperano in questo caso Lord of the Ring è facile, un altro discorso perché non è anche quello dei film è un'altra cosa questo è il Lord of the Ring classico, non so come diavolo dirvelo però non è lo stesso dei film quindi già rende le cose molto più semplici in realtà però comunque io sono come pretesto per dirvelo e fa sì che allora debbano fare la carta in versione in Universe come hanno fatto con quelle dei Secret Layer di The Walking Dead e l'altro Stranger Things però capite che è un pasticcio perché vuol dire creare una carta col nome ad hoc cioè è tutto un cane che si morde la coda che rincorre questa cosa che bisogna starci di cioè è un disastro è un disastro e crea anche confusione crea anche confusione perché vuol dire che a sto punto il vero nome di The One Ring non sarà The One Ring ma sarà The Ring of Plainswalker cioè mi sparo un nome a caso e questo vuol dire confusione perché di nuovo è sicuramente tanto prodotto che non riusciamo a starci dietro quindi questo di nuovo va a mordere la coda perché se uno non segue un attimo non sa che a sto punto The One Ring non è il nome giusto di nuovo ragazzi sono piccole cose non cambierà quasi niente a livello dei gameplay perché soprattutto quando si tratta di nominare le carte non si può fare la cosa ah ti ho fregato non hai nominato la carta giusta una volta c'era questa cosa infatti è nata in un video famoso magari poi farò un video su queste cose per Borb Morigmos è stato fatto a Gospinari dicendo solo Borb Morigmos l'avversario chiudeva con Borb Morigmos Enraged e quindi ha detto no tu hai detto Borb Morigmos non hai detto Borb Morigmos Enraged e il judge gli ha dato ragione perché c'era questa cosa che rendeva la carta nominata non univoca e quindi l'altro rimasto fregato ma era ovvio che intendesse il Enraged quello che ha giocato a Gospinale perché l'altro non era presente nel deck e l'altro chiudeva con una combo per fare scartare le terre e ammazzarti in quel modo di nuovo adesso non c'è più questa cosa a Magic se tu fai capire adesso bene è chiaro che carta sta intendendo anche indicandola quella del magari per terra se è in campo del battaglio all'avversario facendola vedere da qualche parte cioè se ti fai capire vince quello vince quello non c'è più questa cosa qua di oh ti ho fregato che ci sta anche per continuare a ristampare jay simile versioni war war ribo simile versioni perché tra l'altro soprattutto ora che ci sono gli home and puff di nuovo hanno scardinato ancora di più sta cosa non ha senso la gente rimane troppo fregata ma era un cambio che è avvenuto anni fa quindi però di nuovo questo non vuol dire che non crei confusione ma dal push cioè poi vedete in tutti quanti gli elementali gli elementali che sono carte super recenti i boom master anche lì recentissimo attenzione che in top card già addirittura abbiamo tra le top e tutte over all quindi tra tutte 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 disruptor flute che è stata una carta decide che è di mh3 questa è un'ottima carta per andare a disturbare le carte con l'abilità attivata e compagnia cantante perché avendo flash puoi far sì che l'altro investa il mana comunque e poi con la carta in pila gliela spegni e quindi l'altro ha buttato il turno rischi di fare tappo 2 time walk cioè immaginate io faccio tappo 3 grist vado tappo out tu fai tappo 2 in risposta con grist in pila questo mi spegno il grist io ho buttato il turno ho fatto tappo 3 faccio un sasso che non fa nulla fa meno uno dalle carte che ho in mano e non fa niente e ragazzi è forte vedete ho top creature tutte creature moderne cioè le moderne che sono pochissimi anni tra l'altro ragavan ragavan ragazzi vi ricordate quanto cavolo ne parlavamo abbiamo fatto anche i video in cui si diceva sì ragazzi ragavan può borderline rischiare il ban però io ho detto no ragazzi perché si blocca facilmente basta che metti un 1 1 cadetto lo blocchi però comunque ragazzi per farvi capire cioè noi comunque abbiamo dovuto fare tante discussioni con le persone ragionare fare su ragavan ragavan era il problema una volta ragazzi c'era la carta che tutti oh mio dio no ragavan è ciò che sta distruggendo davvero il formato che noi siamo sì è forte ma però di nuovo ragazzi non tanto per diranno che fighe avevamo ragione non mi interessa questo quello che farvi capire comunque la gente ci ragionava su questa cosa c'era il dimenticatoio è nel dimenticatoio ragavan cioè addirittura c'è gente che mollo lo considera scarso e fa schifo c'è gente che dice ma ragavan in modern è una carta morta che non è vero in realtà si gioca ancora decente però capite che è passato dalle stelle alle stalle ma nel giro niente vedete invece la storia del tarmogoyf quanto tempo ci ha messo a passare dalle stelle alle stalle ma decenni decenni una ogni tre anni giù di lì perché comunque non posso dire che ogni anno esce un ragavan per carità o delle robe del genere ma insomma se non è ogni anno ogni due ogni tre che comunque vuol dire che la durata media è molto più bassa cioè oramai davvero rischi che uno ha comprato i quattro ragavan li ficca il raccogitore e non li gioca perché non sono più performanti come prima in modern che comunque è una realtà ragazzi basta andare a vedere i mazzi dex di qua modern non c'è un deck che giochi raga ma manco pagarlo nei primi 5 c'è il boros energy che qualche lista ce l'ha gruntarawar se non se ne fa praticamente niente cioè il primo che lo gioca sempre fisso 4x murtide agent che è basso qua vedete basso insomma non è uno dei tir più giocati e cacchio da sempre presente qui a fini qua cazzarola poi ragazzi pensione uno dice vabbè modernismo fanno i modern horizon soprattutto tu hai detto parliamo di eternal anche questo non è eternal è un'altra cosa ci fanno un prodotto apposta che lo disintegra che sono gli horizon ragazzi non è che legacy cambia tanto se andiamo a vedere legacy è la stessa legacy perché tanto i set modern horizon fanno questo effetto qua poi ragazzi di nuovo non voglio che diventi un video solo su modern horizon cioè è una cosa che fanno anche i set normali e certe volte con alcune carte specifiche quindi non è solo l'effetto modern horizon si è anche quello ma non solo ma tra l'altro poi ragazzi vi invito un canzone un'altra cosa è l'effetto che ci sarà poi anche per universi beyond perché se vogliono davvero renderlo appetitoso e vendibile ci ficcano delle carte forti a stasis creed mi ha un po' deluso perché per ora non ha messo delle carte belle forti ma ci sta perché usciva subito dopo modern horizon 3 non si sono sentite ma secondo me qualche carta forte la faranno perché se vogliono farlo alle gare in modern qualcosa mi devi mettere non ha messo niente di particolare ha scelto di fare così vabbè che ho poi attenzione vuol dire tutto e niente magari tra qualche mese una carta o due o tre insomma un po' di carte di quei assassin crei diventano spanate perché basta quella carta in più quella sinergia in più che diventa fortissima scopre il mazzo adatto e diventa fortissima attenzione semplicemente magari sono anche delle carte meno palesi di potenza rispetto a quel di modo horizon che anche quella è una grossa differenza c'è comunque l'ombra di horizon copre tanto screed comunque senza divagare troppo su questa cosa che è giusto citare per anche comprensione di quello che diciamo sempre perché sono cose con i video quindi chiari le rende più chiare una cosa che ci sarà anche tanto gli universi beyond perché basta vedere il signor di anelli ha voluto che fosse un grande successo si è visto la wizard voleva che lord of the ring vendesse come il pane e così è stato perché è il the one ring due milioni il serialized uno di uno carte fortissime come un wow master the one ring proficchi ovunque perché è tappo 4 e inizia a pescare come un dannato quindi c'è qual è il mazzo che non lo vuole fare solo un mazzo che non vuole raggiungere quattro mana o che gioca con un punto che gioca con due tre terre si attaccano cioè qualsiasi mazzo qual è un minimo mid ringiare lo vuole perché è perfetto nebbia più nebbia potenziata più pesco tantissime carte e posso fare e posso barare perché ne posso giocare uno dietro l'altro e continuare a avere nebbie e pescare è tutto è tutto e capite che però sarà una tematica e continuerà a arrivare cioè per farvi capire un prossimo set che uscirà non mi ricordo quando era forse il prossimo anno era Magic con Marvel quello sarà un'altra zione di anelli ma sicuro perché perché è garantito il limone poi di nuovo non leggo il futuro però perché ci tiene la Wither che quella sia una cooperazione che va tanto in porto l'unathantum con Assassin's Creed l'unathantum con qualcosa a caso gli interessa molto di meno perché tanto sanno che fanno quella cooperazione ciao con quel brand lo sanno che tanto attirano un po' di persone da quel brand anche solo per collezionare le carte con il loro beniamino con Ezio chi che sia e le vendi anche se non sono forti non sono super power crippate anche se mi interessa di meno però invece un set come la Marvel che magari è importante che è un grande nome ci tengono allora a vendere tanto e ficcheranno quindi se vuoi vendere carte di magic cosa devi fare e ficcare carte forti e quindi cosa succederà sarà magari un altro Lord of the Ring con carte fortissime come anello e compagnia cantante un attimo scusate oggi da un lavoro che ho parlato con millianta mila persone e da fare il video muoio non so come non l'abbiamo al di gola e quindi ragazzi questo davvero è anche un trend che continuerà e anzi si potenzierà comunque come promesso legacy a parte le staple che è giusto che siano così quindi force of will branza ponder eccetera tutte quelle dopo sono moderne griff bowmaster cioè vedete vedete l'unica grossa differenza che c'è da un po' di meno che è in top overhaul c'è ce n'è di meno perché ci strugge l'extraction anche come carta in top overhaul per via di come è fatto il formato ma insomma ci siamo capiti ma se già ci spostiamo in creature vedete che sono praticamente anche qua tutte moderne abbiamo brazen che è relativamente moderna facciamo finta che sia vecchia che dai effettivamente un po' vecchiotta lo è soprattutto con gli standard che vi sto dicendo adesso di stampa e compagnia cantante griff è nuova bowmaster nuovo card doom è col bowmaster doughty è nuovo è praticamente un modo horizon ok in realtà qualche annetto anche lui ce l'ha siamo anche lì più o meno però vedete che è praticamente nuova atraxa nuova arconte praticamente nuovo perché modernizing 2 modernizing 2 del reggente psychic frog che raga top legacy questa creatura è top legacy capite cioè non stiamo parlando di un formato molto molto creature based si ce ne è sono giocate però è anche tanto stack based ancora rispetto al modern giustamente che la differenza si sente quindi molto anche sul combattere sullo stack e robe del genere c'è una creaturina così è arrivata ed è nona in legacy ed è uscita da pochissimo questa è uscita praticamente l'altro ieri ed è la nona creatura più giocata col 17% se guardiamo solo le creature ovviamente di legacy questo è tantissimo è tantissimo c'è capito che questo sarebbe il formato con le robe più spanate che puoi fare senza senza le p9 senza le p9 perché appunto hai un po' di ban togli le p9 togli queste carte rotte così e quindi sono diciamo che la cosa più la cosa fair anche sono mazzi unfair più è la cosa unfair più fair che puoi fare detto parola proprio terra terra e tra queste cose cosa fai? giochiamo psichy frog che nuova ragazzi questo davvero a me mi sbalordisce cioè qua si può avere un po' di consolazione dal punto di vista che almeno in top spell overall non ci sono praticamente chissà quante carte nuove però c'è perché le spell in legacy sono molto zoccolo duro di quelle vecchie moda in realtà andiamo appunto in realtà cioè praticamente vedete anche qua il flute è settimo addirittura da decimo è passato a settimo cioè vedete come ha sorpassato anche altre carte galvanic discharge che vi ho detto che sarebbe stata una top carta del formato eccola qui cioè è praticamente il nuovo bolt e infatti è qua e infatti è qua stiamo parlando parla di modern cioè pauper è l'unico formato che un po' di un po' di gioie ce le dà appena lo trovo modern legacy pauper pauper anche qua in realtà tante carte che sono principalmente nuovine ma c'è un po' di zoccolo duro però però qua c'è la risposta alla domanda conviene ancora giocare eternal ragazzi detto sincero a me se uno vuole giocare eternal per quello che noi abbiamo come concetto di eternal noi giocatori allora che è un po' sbagliato ma è comprensibile allora noi player quando giochiamo eternal ci aspettiamo un qualcosa che o ci rientriamo dell'investimento in due modi allora o ci rientriamo dell'investimento nel senso che io compro il mazzo poi lo vendo e bene o male il valore è quello quindi o il mazzo mi dura talmente tanto che boh ho tempo a stancarmi e posso giocare le carte cioè è praticamente davvero un mazzo eterno sono dei bias mentali che abbiamo noi sinceramente perché la wizard non l'ha mai promesso da nessuna parte che debba essere così attenzione comprendo che per tanti anni è stato così però cioè quindi la gente è normale che poi sia abituata in un certo modo basta vedere il modern basta vedere tanti formati come era anche il legacy prima che era ti compri le staple tanto la classica cosa era ma sì comprati l'itarmo comprati le dual comprati quello che è in base al formato tanto sono eterne tanto se ti fa schifo poi il formato te le vendi ci rienti dei soldi e se ti stanchi ritorni aggiorni il mazzo di poco se è a posto non è così ragazzi non è più così ripeto capisco l'incazzatura la wizard non ha mai promesso di fare questa cosa però ovviamente la gente si si scazza perché è quello che ha sempre fatto per anni cioè è normale è normale siamo esseri molto abitudinari e se ci tolgono con l'abitudine ce l'abbiamo questa cosa qua però fa sì che vedete che in realtà i formati eternal e non rotating sono praticamente diventati praticamente dei mazzi che ruotano a momenti quindi per rispondere alla domanda di prima a chiudere il video che se no sto qua 350 anni mi annoiate giocare eternal conviene se avete l'idea di fare questa cosa qua cioè tenere il mazzo per tanto tempo no non lo fate secondo me ormai vi andate semplicemente a incastrare un buco che non uscite più e siete poco soddisfatti non 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 ha più senso stare in quell'ottica se volete giocare in questa ottica qua cioè di mazzi che tendenzialmente non cambiano fate power giocate power perché l'unico eterno che è rimasto per fare questa cosa qua ma infatti si vede perché il prezzo del carto di power ha aumentato tanto ovviamente sono comuni quindi si è ancora su range buoni di prezzo per carità ma sono comunque molto costose cioè la richiesta per trovare le errori in rebuild è altissima cioè un 4x in real non lo trovi manco a pagare certe volte 4x di glintock oh mio dio sembra che hai chiesto 4 black lotus a momenti perché non ce li ha nessuno devi per portare su internet il 4x ce l'hanno pochi non tutti insomma non è facilissimo o se no più spedizioni car trader zero ma tutti i suoi problemi non è automatico che è una tac lo trovate che sono comunacce perché la richiesta è davvero altissima e però sì alla fine della fine se uno giocare l'eternal vero e proprio con il mazzo che viene aggiornato ogni ogni x effettivamente le cose sono poco mutabili power e commander commander attenzione è un eternal ma non ve lo mostrato apposta perché si possa farvi vedere quali sono le top card ma non ha senso però una semplice cosa perché il commander è talmente autogestito c'è chi gioca una banlist propria come noi che giochiamo centurion c'è quindi banlist un ufficiale c'è chi gioca con delle regole house rules specifiche c'è chi gioca ci sono talmente antimoli talmente mille cose intricate tra virgolette sia che chiamiamole casual anche se non è proprio corretto però casual che fanno sì che non c'è un vero e proprio consenso su come si gioca e quali sono le carte più giocate sì le carte più giocate guardiamo quello multiplayer ufficiale sono so so ring e altre però vuol di tutto niente vuol di tutto niente da quel punto di vista perché di nuovo è talmente vario e grosso che conta poco conta dal punto di vista del prezzo perché ovviamente molte persone anzi la gran parte delle persone fattato commander non ti fa vedere niente se metti appunto come su 1v1 però se metti 1v1 se metti commander forse da qualcosa no manco manco c'è commander muove molti prezzi delle carte però cioè alla fine della fiera uno anche senza comprarsi le top staple del formato riesce a giocare poi questa è una delle top staple stesso ring che lo stampa ogni pre con quindi ce l'hai per forza quindi per quello l'ho iniziato poco però alla fine della fiera non può giocare tra quei due formati come si può risolvere questa cosa introduzione di altri formati probabilmente cioè altri formati che man mano prendono il posto di quelli più vecchi che diventano troppo vecchi e non più accessibili come è stato un po' per il legacy quando è arrivato il modern e forse quella la solution è l'unica soluzione niente ragazzi ho già fatto tanto bla bla fate sapere voi nei commenti cosa ne pensate se c'è qualche altra soluzione a questa problematica c'è che se può fare che se può fare soprattutto vi ringrazio se siete arrivati fino alla fine perché è un video lungo vi voglio bene e niente davvero vi ringrazio tantissimo ciao ragazzi e fate i bravi